Ciao a tutti ragazzi bentornati a giocare su minecraft Ora siamo nel server di MrTead8900 Si è aperto da un po', all'inizio era un altro game ma non so per che ora è tutto diverso Eh che bello il sensore, è efficiente eh? Ora siete lì Ah due di marxina Ah bo... con mia avó Oh, oh fucker zone Ehm hosting Oh, non è che è scritto? Ani ne sono un altro? E' un'impera un momento. Eh, questo video lo faccio principalmente come sponsorizzazione al suo server, vi posterò i dati. Oh! Oh! Oh, ma che? Ah, questo è un problema. Grazie a tutti. A me lo fa il mollotto. Io ho uno e non lato. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Un po'... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.